Sono Erika, ho 19 anni, vengo da Catania. Sono fidanzata con Giovanni da due e stiamo aspettando la nostra piccola Chloe. Ci siamo conosciuti tramite un social network. Ci sei innamorato di me. A proposito di foto, infatti. Ho capito che lui era una persona che poteva stare al mio fianco. Batti un colpo se mi senti. A me manca mia mamma, però ho preso la decisione di stare a casa di Giovanni. Gli mette tutte cose nuove alla bambina, non le cose usate. Sai che il tuo figlio e uno ritorno più a casa, me ne sono sentita tradita da mia figlia. Stavo pensando a quanto è cresciuta la pancia in tutto questo tempo e non mi si vedono più i piedi. A mio figlio mi manca. Ma non mi si mette una macchina in moto. Ma che cosa stai facendo io? Io credo di si venire quando lo prenderai, quando ci sarà il monedore di travaglio. Ma a massimo il tuo gestiremo è arrivato a 35 decenni. Tu sei dottore? Perché fai il mio bello a fare. Un po' suove, tipo, ma... Ma non pare, perché... Voglio stare... Ma le tre di buoni a dargli che passi il bandaggio. Non ho sentito un nome da nasci. Ma tu non hai visto la... Un parto così a spruzzo. Dio. No, 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 no.